Presidente, oggi a Porto Venere ci sarà anche un passaggio fondamentale per quel che riguarda i beni sulla Palmaria? Molto importante, ci abbiamo lavorato tanto, è stata anche questa una straordinaria collaborazione tra Regione, Comune e Marina Militare. Finalmente l'Isola Palmaria tornerà ad essere, ed è la prima volta che seriamente ci si impegna in questo, non solo quel polmone ambientale straordinario patrimonio dell'UNESCO, ma anche un luogo dove si possa creare ricchezza, lavoro, occupazione e progresso. Quindi siccome, come ho detto molte volte, non credo che tutelare l'ambiente voglia dire lasciare ruderi, sentieri che crollano e ammasso di rovi, ma vuol dire recuperare col senso del passato, verso il futuro, con un'architettura attenta, senza un centimetro quadrato di cemento in più, ma utilizzando invece quel che i nostri nonni e bisnonni hanno costruito per dare ricchezza ai nostri nipoti, ne sono particolarmente soddisfatto, al di là delle polemiche pretestuose di qualcuno, credo che sia un piccolo passo per la Liguria, ma un modello di recupero importante per tutto il Paese.